Premio Valore Lavoro 2014, un obiettivo raggiunto? Sì, la nostra azienda lavora nell'ambito dell'etichettatura per l'abbigliamento, le calzature e l'agroalimentare. Quindi oggi ci siamo resi conto che buona parte del consumo è distorto dalla contraffazione e dai prodotti a basso costo. Quindi il nostro impegno è quello nella progettazione di nuove etichette intelligenti che possano tutelare il consumatore per un consumo consapevole.